Marco Pompetti, io gli ho detto una cosa a microfoni spenti che non posso ripetere, no Marco, giusto? Giusto, giusto, non possiamo. Non possiamo ripeterla, però gli episodi stavano condannando un po' il giovane Marco Pompetti perché ha perso una palla nel primo tempo e Battistella ti ha punito. Hai sbagliato il rigore, poi però 4-3-3, da metodista hai fatto un arcobaleno che è terminato sulla testa di Memuschei. Ma sicuramente, come tutti sappiamo, soprattutto io, nel calcio gli episodi sono fondamentali e basta un attimo per cambiare una partita nel bene o nel male. Sicuramente gli episodi mi stavano condannando a me personalmente, ma comunque io, sia dopo il gol che abbiamo subito, che è nato comunque da una palla persa da parte mia, e sia dopo il rigore ho sempre continuato a fare il mio gioco, a giocare la mia partita e a cercare di fare gol, di vincere la partita. Soprattutto per questo, perché ci ho sempre creduto, ho sempre cercato di aiutare la squadra, è arrivato l'assist per il capitano Memu e siamo riusciti a vincere la partita. Auteri non ci sente, ma preferisci giocare da vertice di un centrocampo a tre? Ma nel centrocampo a tre sicuramente davanti alla difesa, che mi esprimo meglio, ma come ti ho già detto in passato, adesso stiamo giocando con un centrocampo a due, mi trovo benissimo perché comunque abbiamo più libertà, abbiamo più spazio, possiamo andare anche al tiro, ci possiamo inserire. Io e Memu che abbiamo giocato oggi possiamo alternarci, poi sicuramente a partire in corso il mister può decidere di cambiare e dobbiamo adeguarci. Marco, io ad Auteri in conferenza stampa ho detto ma la decisione l'hanno presa i ragazzi in campo o era una decisione già programmata, un eventuale rigore Pompetti? Pompetti e rigorista risposta. Sicuramente sì, io ho semplicemente seguito quello che c'è detto il mister prima della partita durante gli spogliatoi, negli spogliatoi e il mister appunto aveva detto che il rigorista ero io e quindi ho preso la palla, me la sono sentita e ho calciato il rigore. Purtroppo non è andata bene ma comunque fa parte del gioco e soltanto chi tira i calci i rigori può sbagliarli oppure può far gol. Ti faccio una domanda cattiva che non c'entra con il calcio, chi è che cantava e non si giudica un giocatore da un calcio di rigore? Ma se non mi sbaglio... Andiamo con la domanda da studio, suggerimento? Suggerimento da studio? No, 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 allora mi ricordavo bene, sì sì, De Andrè che cantava appunto questa canzone e secondo me ha ragione perché purtroppo come sappiamo nel calcio gli episodi possono cambiare una gara però se un giocatore sempre con la testa concentrato che sa che deve fare le cose giuste e prima o poi le occasioni arrivano e oggi per fortuna sono riuscito a mettere la palla per il 2-1. Attivato il telefono Massimo, Pompetti ti ascolta, per una domanda poi deve lasciarci. Sì, io guarda insomma continuo a ripetere la mia, tu sei un play puro da 4-3-3 tra l'altro al mio fianco c'è Ferraresi che ti conosce molto bene e ti saluta ma al di là di questo complimenti anche perché hai messo lo zampino in occasione del primo gol perché la palla è stata deliziosa in mezzo all'aria per il colpo di testa di Frascatore e traversa quel tapin di De Marchi, secondo me sei stato un po' troppo critico in occasione del primo gol è vero del pareggio agarrarese, hai perso palla ma la squadra ha avuto l'opportunità di riorganizzarsi ed è stata un po' pigra perché lì qualcuno doveva uscire su Battistella. No, sicuramente parto appunto con la prima cosa che hai detto sicuramente anche il primo gol, avevo messo una buona palla per Paolo che aveva fatto un gran colpo di testa purtroppo ha preso la traversa ma comunque è stato bravo Michael a metterla dentro perché sappiamo che comunque abbiamo grandi saltatori e abbiamo grandi tiratori oltre me quindi le palle inattive dobbiamo sfruttarle e già appunto è avvenuto un gol contro l'Olbia in Coppa Italia dobbiamo ogni palle inattiva secondo me ma secondo comunque tutta la squadra dato come ho detto abbiamo ottimi tiratori e ottimi saltatori dobbiamo sfruttarla come fosse un'occasione, un'occasione d'oro e per quanto riguarda la palla persa sì, io diciamo sono critico con me perché per migliorare secondo me bisogna essere critici con se stessi e diciamo che non voglio prendermi le colpe ma sicuramente il gol è nato da un mio errore e poi sicuramente potevamo evitarlo però sicuramente è nato da un mio errore. Aspetta il pullman ma dici solo sì o no, se si dovesse tornare sul dischetto subito vai? Ma per me sì, io diciamo non ho nessun timore, fa parte del calcio prendersi responsabilità sono un giocatore che piace prendersi responsabilità poi vediamo il mister la prossima partita cosa dirà.